Dottor Davigo, lei è stato vaccinato? No, non ancora almeno. Perché è giovanissimo sicuramente, ma che impressione ha avuto di tutta questa? Giovanissimo no. Che impressione ha di questa vicenda? Come stanno andando le cose? Poi le faccio una domanda, dal suo punto di vista come stanno andando le cose? In generale la pandemia ha messo in discussione il decentramento regionale che c'è stato, perché la riforma del titolo quinto della Costituzione certamente ha portato con sé problemi, ha riempito la Corte Costituzionale di conflitti fra le regioni e lo Stato sulla materia concorrente, eccetera. La Corte Costituzionale ha affermato di recente che per la pandemia la preminenza dello Stato non è in discussione, quindi tutte queste cose che ci sono state nei mesi scorsi con le regioni che prendevano provvedimenti diversi da quelli disposti a livello nazionale erano comunque segno di confusione. Non può essere che ognuno fa come gli pare di fronte a una pandemia mondiale, dovrebbero esserci comportamenti unitari, questo è il primo dato. Il secondo dato è che c'è una certa inefficienza che si è rivelata nelle strutture sanitarie, anche questo era forse prevedibile di fronte a un fenomeno di questa gravità. La sanità lombarda aveva fama di essere molto efficiente ma in condizioni normali, sottoposta a uno stress ha mostrato difficoltà. Ci sono stati comportamenti poi che sono, comportamenti individuali intendo, che sono incomprensibili come quello di saltare la fila, queste sono cose che denotano scarsissimo senso civico, cose che non si devono fare. Insomma, ha ragione Bersani quando dice che devono essere fatte le regole che stabiliscono chi deve essere vaccinato e chi no, dopodiché però non è tollerabile che chi non deve essere vaccinato faccia il furbo e passi davanti perché vuole fare il furbo. Sa, dottor Davico, in un paese civile non succederebbe. Allora, non solo succede, ma voi dite che bisogna guardare il fenomeno con le differenze delle regioni, ci sono delle cose che non sono differenti. Allora noi abbiamo in Toscana il VIP che viene accusato di essere, di passare sopra alla fila. In Calabria il senatore che arriva e le canta a tutti i dottori colpevoli di non aver vaccinato i parenti, anche se ci sono diversioni discordanti sul caso. I lombardi vengono chiamati con ritardo, non vengono chiamati, i messaggi non partono, partono dei messaggi che li mandano a fare i vaccini a 150 chilometri di distanza. Allora là c'è un tratto comune tra le regioni. Qual è dal suo punto di vista? Essenzialmente il tratto comune è un po' di confusione, ma questa è anche una caratteristica di questo paese da sempre, di fare un po' di confusione. C'è anche qualche volta, mancanza di senso civico certamente, posso raccontare un episodio che mi è capitato molti anni fa. Facevo delle indagini che avevano riguardato una persona che usava quattro identità diverse. Quando fu identificato si scoprì che ne aveva un'altra, quella vera, ed era latitante da 17 anni, con una condanna definitiva a 16 anni da scontare. Poi prese altri anni di carcere nel processo in cui era stato identificato. Molti anni dopo io andai all'ospedale Fatebene Fratelli, per fare una visita oculistica, presi il numero per aspettare il mio turno, per pagare il ticket e mi sedetti ad attendere. Me lo ricordavo perché era stato un processo molto complesso e difficile. Me lo vedi passare davanti con un camice bianco, lo guardai bene e lo riconobbi. Allora lo chiamai per cognome, lui ci girò, mi salutò e io gli chiesi se fosse evaso, perché secondo i miei calcoli doveva essere ancora detenuto. Lui mi rispose no, sono in semilibertà, sto facendo volontariato. E mi chiese ma lei che cosa fa qui? Dico io devo fare una visita oculistica. E lui stupito mi chiese e fa la fila? Io disse certo che faccio la fila. Dice no, ci penso io. Io gli dice no guardi, la prego. E lui mi disse no ma cosa ha capito, non dico chi sono io, dico chi è lei. La cosa mi sembrava ancora peggiore, già che ipotizzasse di dire chi era lui, visto che era in odore di appartenenza all'associazione mafiosa. E poi di fronte al mio rifiuto mi disse una cosa tipo ma lei è troppo modesto, una cosa di questo genere. Raccontai la cosa a un collega dicendo ma dimmi tu se è possibile una cosa di questo genere. E lui, il collega mi rimproverò dicendo ma vedi tu sei sempre il solito. da parte sua era un gesto di rispetto e tu in questo modo magari lo hai offeso. Tu sei portatore di cultura mafiosa perché se uno passa davanti agli altri, gli altri vanno indietro. Ma è possibile che non lo capisci? E fai il magistrato come me. Insomma, come ti viene in mente di dire una cosa di questo genere? Ecco, in questo senso, questo paese non sempre ha chiaro che se qualcuno va avanti gli altri vanno indietro. Ed è una cosa che bisognerebbe ricordare.